Siamo qui a Tana Comics 2023 con Sober e Monashon. Ciao! Ciao! Sober, iniziamo con te. Come mai sei passata da TikTok a Twitch? Come è stato questo cambiamento? Cosa ti ha portato? Allora, perché mi sono ritrovata la maggior parte del tempo a giocare ai videogiochi, nel tempo libero, e ho detto ma perché non rendere la propria passione un lavoro? E allora ho deciso di passare a Twitch, un anno e mezzo fa più o meno. Invece, quale tra le due piattaforme preferisci, diciamo, per esprimire e creare i tuoi contenuti? Twitch. Tantissimo perché ho un contatto più diretto con la mia community, li conosco più nello specifico, lo preferisco piuttosto di TikTok che invece la gente ti conosce soltanto attraverso dei video, mentre su Twitch tu stai lì tanto tempo e la gente comunica con te e quindi li conosci molto meglio. Va bene, capito. Invece tu, Mona, com'è, diciamo, nata questa passione per lo streaming? Allora, è nata per gioco, un pochino, però col fatto che mi piaceva giocare ai videogiochi ho trasformato la mia passione in lavoro, quindi ho iniziato un pochino per gioco. I miei amici mi dicevano perché non provi Twitch? L'ho provato, mi è piaciuto, ho creato la mia community e adesso l'ho trasformata nel mio lavoro attuale. Capisco, capisco. Invece, come ti sei avvicinata al mondo dei cosplay e cose che, diciamo, trovi di interessante in questo mondo? Allora, di base mi piace travestirmi un sacco, è una passione che mi ha trasmesso mia madre, fin da piccolina, infatti mi piaceva un sacco vestirmi a carnevale, ad Halloween, non vedevo l'ora che arrivassero queste due feste per travestirmi. Poi ho scoperto che con i videogiochi potevo praticamente vestirmi dal personaggio che giocavo, praticamente, e quindi nulla, mi si è aperto questo mondo e ho iniziato a vestirmi. Va bene, questo è tutto. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi.